ok oro 2 vl riscattiamo questi grossissimi premi 45k o orari 2 mega pacchetti rari 2 picca questa settimana per quanto riguarda picco è che ci sia tutta sta abbondanza di di picche c'è di bello bello a parer mio si può trovare solamente muriel lo scudnitz così per il meme o aspas fabio per loro ma anche lo scudnitz lo fare volare un bilde probabilmente vabbè vediamo se questa è la maggiorata fortunata carichiamo il picco carica 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 boom e tanto se di vicino a sculare vicino a sculare su fifa mataus fechissimo proprio ok terzo piccio secondo pic 1 di 4 c'è che la c'è che la c'è che la bomba fabigno così me lo dai proprio così no non me l'ha dato ci ho provato bavard vabbè buono però però l'84 dentro zambrotta oddio sapete che forse forse devo controllare devo vedere se posso fare l'86 più allora pic 3 giocatori 86 più ce la faremo a trovare uno di forte c'è uno forte ce la faremo please confido nella vostra misericordia sterling sterling vabbè vabbè c'è storto in culo è per almeno 90 di overolla allora andiamo a aprire questi pacchi cos'è che abbiamo pacchetto di orari mica 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 mega raro mega raro mi sto così vai aprire il pacco ma il primo pacco del giorno che è questo mamma mia bernard 181 di velocità ma donna che terzino che lavoroso ma in tanti ha vinto al campionato a parte le meme alle grattate di co stava caricando al draft signori questo è più raro del moment è più raro di rondo moment quindi ecco perché stava caricando questo pacco ok ci sta testa testa vabbè andiamo con il primo mega golosissimo questo pacco chi sei cc della cruz sotto e magari sotto una bandieruccia morata mamma mia innamorata all'uomo del fuorigioco simon bandierina spagnola portiere editor madonna ma basta ma che sto vedendo in questi paesi ma io gli schifo mi sono tolto il cazzo non cagare sti pacchi madonna mia già il gioco sta morendo in più questi di mettere un drop rate che fa ribrezzo dei pacchi madonna mia che schifo a tiro dritto ma ho capito dio pure mio olè bandiera almeno bandieruccia brasiliana sarà atti ah gabriel jesus bello devo dire che pacchi devo dire emozionanti proprio emozionanti e niente ed è proprio lui atti cramari signori miei bello 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 dio mio che schifo di pacchi un'altra 3.000 credi sia la cosa migliore e sono i 3.000 crediti belli una settimana devo dire le valsa la pena vuol dire giocare questa settimana contiene il party bag come al solito 1220 rule breaker road to the final primatista dodge freeze protagonisti stelle del futuro e se è party bag fortunatamente non ci sono i once to watch ste cagate signori però ci sono una maria di eventi saremo fortunati olè scopriamolo scopriamolo se oggi il dio di fifa è della nostra e viola colore della ciola l'italia dc lazio ok che sbocco regali football day come al solito si possono trovare tante cose belle ci sono tanti eventi belli mi appella a voi dio di fifa fai che simo possa sculare prima workout dire sta roba vediamo se rifunziona oddio su cristo con il workout oddio viola colore della ciola svizzera di celvedi di nuovo rega di nuovo l'altra volta io lo trovai a simo ok devo dire questi team of the group stage vogliono uscire da questi pacchi oh olè regali football day vabbè ormai ho perso le speranze non faccio neanche preamble ma ah ok ok allora non facciamo neanche più preamboli tiriamo dritto e basta ragazzi ragazzi football day le apro dritto per dritto ma basta ma fammi un'animazione da vola a scuola del pacco non lo so se per scuola del pacco scopriamo beh headliners non è headliners quindi perché l'animazione è partita walk out e walk out viola what if brasile cdc lucasleva oh mio dio però lucasleva 90 sinceramente meglio di elvedi meglio di radeci e meglio di altre cagate party bag e nei sono party bag non è un headliners perché tanto se no avrebbe schippato l'animazione andiamo un po andiamo un po facci walk out per favore ok walk out e walk out viola viola fucsia portogallo terzino destro questo è un dalot addio mio ecco ti atta sì ecco ti atta terzino portoghese del miran però quale maglia me lo sto dicendo 5 giocatori rari con valutazione 85 più faccio 0 bet perché hanno portato una sfiga vai apriamo il pacco vai walk out se non mi walk out ti tiro un pugno ok sbaglio e info argentina ts eeeh alcuna matata ok work out if work out if sotto ci possono inserire dei work out comunque nulla ci vieta che sotto almeno almeno un work out per il meme ce lo può dare il gioco la madonna la madonna 4 work out cioè alla fine questo lo consideriamo walk out alcuna c'è così il miglior 85 più l'ha aperto nel mio account godicchio ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti